Da dieci giorni abbiamo una nuova maestra. La nuova maestra parla Tischi Toschi perché viene da una città dell'Alta Italia che si chiama Forlì e tiene la faccia uguale uguale all'Arcangelo Gabriele che sta affittato nella chiesa di Santa Rita subito entrando a destra. La nuova maestra ci ha detto che faceva giusto un anno da quando ammazzarono a Vincenzino la Guardia e il fratello più grande nel bar California. La nuova maestra ci ha detto che nessuno delle otto persone che stavano nel bar California ha dichiarato ai carabinieri di conoscere gli assassini e che noi dovevamo scrivere le nostre riflessioni. Io ho fatto le riflessioni e poi ho scritto Chissà deve parlare, se no esco un macchiato. Ho fatto subito subito, così dopo mi sono messo a pensare alla nuova maestra. Io la penso sempre alla nuova maestra.